Tutto ciò che ha valore deve essere aperto agli ospiti e questo è come un grande grande invito a connettersi con ciò che ha valore e Milano in questo ha saputo fare cose straordinarie e dovrà fare cose straordinarie. Il tema dell'Expo 58 era molto generale, il tema era l'unità dell'unità, quindi è interessante che l'Expo milanese ha un focus più particolare. L'importante è ricordare che è un momento per l'idealismo e non per il cynicismo. Consigliere e anche un po' di scelte concrete necessarie a livello italiano ma anche a livello internazionale. Io vorrei trovare all'Expo quello che è stato annunciato, questa soluzione in cui la questione alimentare diventasse una questione fondamentalmente etica, che l'etica riprendesse il posto probabilmente anche in parte, in grande parte dell'estetica e che fossimo oltre una fase che è quella attuale in cui c'è una sorta di cinismo terribile. Il tema più rilevante di Expo secondo me è l'alimentazione sana, mi riguarda, mi tocca da vicino perché solo con i grandi prodotti di qualità si può comunicare e fare grande cucina e soprattutto una cucina del benessere. Il mio grande obiettivo è che le donne in ogni caso abbiano sufficiente da cominciare, ma che anche noi ci amiamo abbastanza 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 abbastanza. È un'opportunità di confronto, un'opportunità di crescita e poi devo dire che è anche un'opportunità di leadership. Il nostro Paese come leader in questa materia deve assolutamente non aver paura, avere coraggio di dimostrare a tutto il mondo quello che siamo, che siamo molto meglio di quello che ci dipingono all'esterno. Un'occasione per presentare e per far vedere in un palcoscenico che praticamente non ha confini nazionali quello che stiamo facendo, stiamo pensando, stiamo ragionando, stiamo sognando per la nostra esistenza. Mi è venuto in mente un ammonimento di Albert Einstein che dice non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare sempre le stesse cose. A proposito di domande e di risposte io cito sempre molto volentieri uno dei miei metropansè che è Edoardo Galeano che un po' di anni fa ha scritto quando finalmente avevamo imparato tutte le risposte ci hanno cambiato le domande. Penso che mi aspetto che mi cambino le domande, mi aspetto continuamente delle domande nuove perché la sfida vera è cambiare il punto di vista e quindi smetterla di incaponirsi a voler dare risposte che magari non sono più adeguate ai temi, agli argomenti, alle sfide e quindi mi aspetto delle gran belle domande, difficili. Grazie. 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 Grazie.